Prenderà il via da domani il 16 giugno la nuova gestione dei parcheggi a pagamento in centro a Teramo da parte della Easy Help che prende il posto della Tercop. Nuova gestione ma vecchio personale, infatti ieri 22 operatori impegnati finora con la cooperativa sociale che da numerosi anni si è occupata delle strisce blu con la firma del contratto sono stati ufficialmente assorbiti dal nuovo gestore. Un impegno forte e significativo intanto di ripristinare legittimità ad una precarietà che si è trascinata per troppo tempo, quindi la legittimità alla gestione dei parcheggi blu con ovviamente la conservazione di un carattere sociale della gestione dei parcheggi stessi. L'assunzione dei lavoratori da parte della società che si è giudicata alla gestione dei parcheggi scoperti a pagamento in città fa seguito alla firma dello scorso 19 maggio del relativo contratto con la stessa società e per il sindaco Gian Guido Dalberto e l'assessore al traffico Maurizio Verna rappresenta un risultato per nulla scontato e raggiunto grazie alla costante interlocuzione tra la Easy Help, il comune e i sindacati. Ricordiamoci che il project era caratterizzato sia sulla gestione ma anche sulla pianificazione e programmazione anche alla definizione del piano urbano del traffico, del piano urbano, del piano della sosta e del PUMS, del piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi questa attività nella logica della gradualità come dicevo prima consentirà anche di pianificare, programmare in questo momento storico così importante per la nostra città la pianificazione di tutta la viabilità. Numerose le novità che verranno messe in campo con questa nuova conduzione del servizio. La nuova gestione prevede l'installazione e l'utilizzo da parte dell'utente del mezzo parcometro che da un punto di vista sia tecnologico che normativo riteniamo sia il mezzo più adeguato per poter espletare il pagamento della sosta. Le tariffe sono state diminuite per la seconda ora rispetto alle tariffe precedenti e questo sposa l'idea che la nostra società e che soprattutto la Giunta ci ha chiesto di applicare, cioè la turnazione. L'obiettivo è creare posti liberi, quindi non sfavorire una mobilità passiva alla sosta a lungo termine, creare turnazione che agevola sicuramente gli esercizi commerciali creando più potenziali clienti. Quindi abbiamo deciso di lasciare la prima mezz'ora a 50 centesimi, quindi con un prezzo agevolato proprio a dimostrazione della volontà di creare turnazione. La seconda ora è stata diminuita a 1,20 euro. Quindi